ragazzuoli giovedì 2 dicembre alle ore 20 contest di account glicciato per sapere di più entrate in gruppo telegram link in descrizione ola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su vita mozza ragazzuola gp porto come fare i joggers verdi in realtà sono cargo non sono proprio joggers però ci dobbiamo accontentare di questi perché comunque sono abbastanza carini ed è l'unico metodo al momento ovviamente quello più semplice perché poi ovviamente ci sono anche beef che si possono fare tranquillamente e ovviamente se wizard però col metodo del creatore possiamo fare i cargo verdi ok che comunque sono molto simili ai joggers allora per iniziare ragazzuoli quindi utilizzeremo il metodo del creatore vi ricordo che il metodo del creatore elimina gli outfit sul primo personaggio tranne il primo quindi quello che indossiamo appena iniziamo col metodo del creatore e completamente il secondo personaggio allora una volta partiamo dal primo personaggio quindi una volta che siamo in qualsiasi sessione premiamo option online e andiamo su cambia personaggio ok una volta arrivati nel cambio personaggio ragazzuoli dobbiamo andare a creare il secondo personaggio donna mi raccomando quindi andiamo a creare il secondo personaggio donna e se non ce l'avete ovviamente selezionandolo quindi andate a modificare ok ragazzuoli una volta che siamo arrivati nella sessione col personaggio donna dobbiamo andare a fare tre merge andate in un negozio qualsiasi sulla mappa vi ricordo che se non vi escono i negozi sulla mappa dovete andare in un lavoro da titano avviare l'attività dopodiché uscire e respawneranno i negozi sulla mappa poi saremo in una pubblica quindi vi consiglio ovviamente di attivare un'unità passiva dopodiché iniziamo con i merge saranno tre merge quindi ve li faccio vedere io mi sono già portato avanti li avevo già creati e se faccio vedere dal primo come crearlo allora andiamo nella parte superiore innanzitutto andiamo su canotte quindi 43 su 60 andiamo su 43 su 60 andiamo a selezionare la canotta ultra strappata caffè mi raccomando selezionate questa e non selezionate questa qua ok che è sempre una canotta caffè ma è più lunga quindi ultra corta strappata caffè dopodiché andiamo invece nei pantaloni andiamo su pantaloni andiamo su pantaloni sportivi e andiamo a selezionare questi qua i primi maculati ok non guardate il numero guardate soprattutto il nome ok perché potrebbe cambiare poi dopo dopodiché andiamo invece su scarpe e andiamo a selezionare le scarpe le scarpe dobbiamo andare a prendere negli stivali andiamo su stivali e andiamo a selezionare il 35 su 95 ok quindi dopodiché ragazzuoli andiamo invece su guanti e andiamo a selezionare anche i guanti i guanti dobbiamo andare a prendere invece il 52 su 62 quindi da chirurgo blu dopodiché ragazzuoli possiamo premere quadrato e andare a salvare il primo merge io ovviamente lo vado a sovrascrivere poi dopodiché ragazzuoli selezioniamo il secondo merge andiamo a vedere subito il secondo merge come farlo allora andiamo sempre nei guanti a questo punto che siamo già più vicini e andiamo a selezionare i guanti che ci servono quindi serviranno questi guanti qua il 12 su 62 quindi 12 su 62 e dopodiché torniamo nelle parti superiori quindi le parti pantaloni rimangono sempre gli stessi parti superiori dobbiamo andare a prendere il 45 su 60 quindi 45 su 60 le polo mi raccomando non polo nei pantaloni ma polo e dobbiamo andare a prendere il 19 su 38 perfetto una volta fatto questo andiamo anche a a salvare il secondo merge quindi lo vado io a sovrascrivere e andiamo a prendere il terzo e ultimo merge quindi andiamo su stile e andiamo sul terzo e ultimo merge a questo punto dobbiamo andare sempre sulle parti superiori e andare a prendere il 4 su 60 ok quindi giacche completo aderenti e poi dobbiamo andare a prendere l'11 su 34 ok una volta fatto questo ragazzuoli dobbiamo andare su stile andare su inventario scusate e mettere il giubbotto antiproiettere questo qua super leggero fatto ciò torniamo sui guanti nel frattempo salutiamo anche almeno trovarci nella sessione pubblica beac bella andiamo anche di nuovo quindi sui guanti e andiamo a mettere gli stessi guanti che avevamo prima ok quindi andiamo su guanti e andiamo a mettere gli stessi guanti di prima quindi tattici bosco chiari fatto ciò ragazzuoli quadrato e andiamo a sovrascrivere anche il terzo merge una volta che abbiamo salvati tutti e tre merge premiamo il touchpad andiamo su ucciditi e ci uccidiamo una volta respawnati in sessione ragazzuoli facciamo option online e ce l'andiamo direttamente nel creatore ok una volta arrivati nel creatore andiamo su crea una gara andiamo su tutorial e avviamo nel tutorial premeremo option online e andiamo su seleziona personaggio una volta arrivati nel seleziona personaggio ragazzuoli dobbiamo andare a eliminare il secondo personaggio mi raccomando è importantissima questa fase quindi andiamo sul secondo personaggio ci accertiamo che alza la cartellina premiamo quadrato scriviamo elimina e dopo di che una volta che esce il secondo personaggio nuovo mi raccomando questa parte è importantissima dobbiamo ritornare a gta 5 in storia ok quindi con cerchio ok ragazzuoli una volta che siamo arrivati in storia premiamo option online gioca gta online e ce l'andiamo in una sessione a inviti ok ragazzuoli una volta che siamo arrivati in sessione ovviamente se dovete salvare l'outfit che indossate appena iniziate fattolo adesso perché se no poi lo perdete altrimenti andiamo dalla cassiera andiamo con freccia destra andiamo su completi standard e andiamo a mettere lo scazzato poi dopo di che andiamo a togliere anche gli occhiali quindi andiamo proprio a togliere gli occhiali tutte le altre cose che abbiamo in faccia mi raccomando importantissimo e andiamo verso i pantaloni e andiamo a mettere i pantaloni cargo andiamo a mettere i pantaloni cargo dobbiamo mettere quelli muschio ok quindi andiamo a trovare i cargo muschio mi raccomando importante perché se no non mi riesce nada di nada andiamo a prendere i cargo muschio quindi 11 su 45 poi dopo di che andiamo su scarpe andiamo su stivali impermeabili quindi 13 su 14 e andiamo a mettere questi qua camo ciano perfetto una volta fatto ciò ragazzuoli possiamo avviare l'attività per il match che ragazzuoli in questa schermata dobbiamo premere tre volte freccia destra ok in questo modo e poi ci dobbiamo mettere su pronto a giocare una volta respawnati nella sessione dobbiamo andare a salvare il nostro outfit in un appartamento qualsiasi quindi io vado a dirigermi direttamente all'eclipse tower ok una volta dentro l'appartamento andiamo verso il nostro armadio e andiamo a salvare il nostro outfit quindi guardate qualche spettacolo di outfit con i joggers verdi con i cargo verdi andiamo a salvarlo quindi lo metterò in uno slot ovviamente qualsiasi lo vado a mettere l'ultimo slot e lo vado a chiamare verde una volta che salvo sullo slot posso fare cerchio 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 e quittare l'attività ok ragazzuoli una volta respawnati in sessione ovviamente avremo già il nostro outfit salvato eccolo qua guardate che spettacolo a questo punto andiamo al negozio di maschere andiamo a terminare il nostro outfit ok ragazzuoli una volta che siamo arrivati al negozio di maschere andiamo nella sessione maschere andiamo su sportive e andiamo a prendere la maschera questa qui adesso la faccio vedere anche dalla clip perfetto nera e verde quindi tecnologica nera e verde andiamo a selezionare poi dopo di che andiamo sul touchpad andiamo su stile e andiamo su accessori e andiamo a mettere vi consiglio di mettere anche una chefia nera ovviamente lo trovate in qualsiasi altro negozio in qualsiasi negozio sulla mappa questo punto facciamo cerchio 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 e andiamo a salvare questo outfit poi dopo di che dobbiamo avere anche quindi a sovrascrivere dobbiamo avere anche il caschetto nero antiproiettili e anche questo lo trovate in qualsiasi negozio sulla sulla mappa quindi a questo punto ci dirigiamo verso il cannocchiale ok una volta arrivato al cannocchiale andiamo verso il cannocchiale premiamo freccia destra poi premiamo il touchpad andiamo su stile andiamo su accessori andiamo a mettere il casco antiproiettile nero premiamo cerchio 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 ci allontaniamo dal cannocchiale e come vedete ci ha buggato anche la maschera a questo punto questo completo lo andiamo a salvare direttamente al negozio di maschere ok ragazzuoli una volta arrivati al negozio di maschere andiamo nella sezione delle magliette freccia destra quadrato e andiamo a sovrascrivere perfetto ragazzuoli outfit veramente facile da fare non ci sono requisiti tranne qualche soldino ovviamente questi sono gli unici jokers cargo che posso possiamo avere per il momento quindi spero che vi piacciono se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti